Tina Cipollari ha festeggiato il suo cinquantottesimo compleanno, e Gianni Sperti, il suo collega in Uomini e Donne, ha reso l'occasione memorabile con auguri unici attraverso l'app di invecchiamento. La sua trovata ha catturato l'attenzione dei social media, suscitando risate e apprezzamenti. Nel post condiviso sui social, Sperti ha condiviso una foto di Tina utilizzando un filtro che la faceva apparire notevolmente invecchiata. Tuttavia, il tocco comico è stato fornito dal commento scherzoso di Sperti, buon compleanno Tina, gli anni aumentano ma te li porti sempre bene. La creativa storia continua con una foto della Cipollari appisolata sul divano, interpretata da Sperti in chiave ironica con le parole, buon compleanno alla mia amica sempre grintosa. L'umorismo della situazione ha contribuito a rendere gli auguri di compleanno unici e divertenti, dimostrando il lato giocoso della loro amicizia nel mondo televisivo.